Questo si chiama sottili, contiene riso, pomodoro e al centro ha un cuore di mozzarella, nel coperto di pan grattato e viene fritto. Questo invece è fritto di pan calà, che è un pesce. Anch'esso viene a bordo della pastella, si definisce con il termine di pan a dura e viene fritto nell'olio. Questi sono i fiori di zuffa, che sono i fiori dell'anzucchina romana. Anch'essi sono passati nella pastella dopodiché fritti. La pizza? La pizza no. Questo è normale.